Il parco del retiro è il principale polmone verde di Madrid, un parco di 118 ettari nel centro della capitale, voluto nella prima metà del Seicento da Re Alfonso IV per fornire alla corte un luogo dove svagarsi. Successivamente viene aperto al pubblico e da allora è la meta preferita dei madrileni per rinassarsi, fare sport e sfuggire alla calore estiva. Il laghetto artificiale offre la possibilità di una gita in barca a remi sotto il grande monumento equestre dedicato ad Alfonso XII. Oppure si può passeggiare fra i fiori della Rosaleda, il rosetto creato ai primi del Novecento sul modello di quelli parigini, ammirare la graziosa casetta del pescatore, oppure le tre fontane del parco, la fontana del carciofo, la fontana delle tartarughe e la fontana dell'angelo caduto, che rappresenta Lucifero nell'atto di cadere dal paradiso, una delle aree sculture al mondo con questo soggetto, ispirata al paradiso perduto di Milton. Ma non solo, all'interno del parco si trovano due palazzi dell'architetto Riccardo Velasquez, uno è appunto chiamato Palazzo Velasquez, l'altro è il suggestivo Palazzo dei Cristal, completamente costruito in ferro e vetro. Questi due palazzi sono parte integrante del Museo Reina Sofia e ospitano esposizioni e mostre d'arte temporanee. La più recente aggiunta al parco è il Bosco degli Scomparsi, dedicato alle vittime dell'attentato terroristico che colpì la metropolitana di Madrid l'11 marzo 2004. Grazie. 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 Grazie.